Al tavolo della conferenza permanente, oltre ai rappresentanti degli uffici giudiziari baresi, c'erano i tecnici dell'INAIL, Comuni di Bari e Ministero della Giustizia. Si è deciso di avviare, contemporaneamente alla stima dei lavori da parte dell'ente proprietario dell'immobile, l'INAIL, una nuova ricerca di mercato per individuare soluzioni per ospitare procura e tribunale penale, in attesa che si realizzi il polo unico della giustizia barese. È stato comunque escluso un rischio crollo del palazzo e al momento è tramontata anche l'ipotesi di trasferimento negli uffici giudiziari nella cittadella della Guardia di Finanza al quartiere San Paolo. Indisponibilità, peraltro, confermata in una nota dalla legione allievi della GDF. Nell'immediato futuro non resta che gestire al meglio la situazione contingente in riferimento al palazzo di Via Nazareans. Problemi statici importanti non ne sono emersi, ma resta un problema di adeguamento dell'immobile costruito non si sa come. Nell'ambito di una ricerca di mercato si verificherà la possibilità di trovare altri immobili idonei per il trasferimento temporaneo degli uffici, per consentire i lavori necessari in Via Nazareans. Rassicurati anche gli avvocati non sussistono problemi di staticità dell'edificio, ma difetti di costruzione che possono provocare aperture nel pavimento o caduta di calcinacce e controsoffitti. Si ripropone dunque un problema di sicurezza nell'emore della costruzione del polo della giustizia.